Salve, mi chiamo Luigi Spagnolo, insegno Linguistica Italiana all'Università per Stranieri di Siena. Per questo contributo per la rete delle Università per la Pace ho scelto un argomento che risale al periodo in cui mi sono occupato delle Costituzioni storiche, quindi in particolare lo Statuto Albertino e la Costituzione della Repubblica Romana, ma anche la genesi della nostra Costituzione Repubblicana entrata in vigore il 1 gennaio 1948. Questo è lo studio, il mio saggio, l'italiano costituzionale dallo Statuto Albertino alla Costituzione Repubblicana del 2012. Perché? In quale questione mi sono imbattuto relativa al problema del riarmo delle spese per la difesa, quindi delle spese militari? Ora vediamo la questione. Innanzitutto di partenza sappiamo che l'Italia spende ogni anno miliardi in armi, le spese militari crescono, così come Italia e la sanità. Ci dice un articolo del maggio scorso di Rita Rapisardi sull'Espresso, armi sì, respiratori no, nel 2020 oltre 26 miliardi in spese militari per l'Italia, nonostante la pandemia. La spesa militare è passata dall'1,25% del PIL fino a raggiungere un picco dell'1,45%. Nella previsione per il 2020 quasi 6 miliardi di euro, quasi 5,9 sono destinati all'acquisto di nuovi sistemi d'arma. Secondo i dati elaborati dall'osservatorio Milex, nel 2020 spenderemo circa 26 miliardi e 300 milioni in spese militari, un miliardo e mezzo in più rispetto all'anno precedente. Vediamo da dove nasce anche tutta questa spesa militare. Nasce fin dal 1949 dall'impegno dell'Italia nell'ambito dell'alleanza nord-atlantica, il patto NATO, North Atlantic Treaty Organization. Il patto atlantico prevedeva già all'articolo 3 che le parti in causa che gli stati mantenessero e sviluppassero la loro capacità individuale e collettiva di resistere a un attacco armato. Si prevedevano scenari di guerra contro l'Unione Sovietica e quindi si chiedeva a ciascuno Stato membro di implementare il proprio arsenale, la propria potenza difensiva in previsione di attacchi futuri. Qui vedete appunto l'articolo 3 nel testo originario del patto. Vediamo che cosa accade nel 1951. Una discussione molto importante che impegna il governo e il Parlamento e mette in discussione l'articolo 94 della neonata Costituzione. Leggiamo il testo nei suoi commi costitutivi. Il governo deve avere la fiducia delle due camere. Ciascuna camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale. Entro dieci giorni dalla sua formazione il governo si presenta alle camere per ottenerne la fiducia. E veniamo al quarto comma fondamentale. Il voto contrario di una o di entrambe le camere su una proposta del governo non importa obbligo di dimissioni. La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della camera e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione. Che cosa accadde il 6 marzo del 1951? Si discutevano di segni di legge di aumento delle spese per il Ministero della Difesa, esercizio finanziario 1950-51 e quelli immediatamente seguenti. Per il potenziamento della difesa del paese. Quindi una discussione sul riarmo dell'Italia. E in particolare Luigi Meda, democristiano, relatore per la maggioranza, disse, onorevoli colleghi, vediamo di essere sereni ed obiettivi e consideriamo bene la somma di 250 miliardi, delle vecchie lire, per quel che in realtà è e per quello che con essa si può fare. 250 miliardi, una spesa sufficiente per armare, sì e no, una divisione mezza corazzata con criteri moderni. Una somma nettamente inferiore alle spese che continuamente vengono effettuate dalla Russia e dai suoi stati satelliti nel campo militare. Non dobbiamo dimenticare che rimanendo fermo il Trattato di Pace, noi non potremo dotare le nostre artiglierie di cannoni a lunga portata, non potremo costruire sottomarini, non potremo disporre di un solo aeroplano da bombardamento. Vi è una profonda differenza tra l'armamento delle nostre forze armate e quello destinato per un'eventuale guerra offensiva. Attenzione, non si parla di guerra addirittura offensiva, nemmeno difensiva. Intervenne anche il Presidente del Consiglio, Alcide De Gasperi. Onorevoli colleghi, ognuno di noi ha assunto le sue responsabilità quando ha approvato o rifiutato il Patto Atlantico. Oggi si tratta di accordare o non accordare quel contributo che tutte le nazioni e le più ricche in ben maggiore misura debbono dare per rendere vitale ed efficace il Patto Difensivo. Il voto contiene quindi una valutazione della linea direttiva essenziale del Governo, sia per il collocamento dell'Italia nella politica internazionale, sia per la visione fondamentale di politica interna che vi è connessa. Mi riservo di dichiarare quali ordini del giorno il Governo accetti, ma fin d'ora dico che la questione è semplice e chiara, e che alla domanda chiara e semplice, notate l'inversione, deve corrispondere a una risposta semplice, chiara e precisa. Ho fiducia altresì che la risposta implichi, contenga e confermi la fiducia nel Governo. Attenzione, confido pertanto che la Camera saprà e vorrà dare questa risposta. Quindi una dichiarazione molto impegnativa per il Governo e per il Parlamento e che dal punto di vista della linguistica testuale si poneva in chiara contraddizione con il nuovo articolo 94 della Costituzione, in particolare il quarto comma. Diciamo che i 250 miliardi di lire di allora corrispondono più o meno, anzi corrispondono a 4 miliardi, 270 milioni, 943.618 Euro di oggi. Quindi più di 4 miliardi della moneta attuale. Qual era l'ordine del giorno Bettiol che era in discussione? La Camera, udite le dichiarazioni del Governo in occasione della discussione dei disegni di legge concernenti autorizzazioni di spese straordinarie per il potenziamento della difesa del Paese, le approva e delibera di passare agli articoli. Attenzione, quindi si trattava di un disegno di legge che impegnava la Camera nei confronti del Governo che aveva rinnovato la questione di fiducia. Ci fu subito l'intervento di un deputato del Partito Monarchico, perché il Partito Monarchico non era contrario al riarmo, ma era contrario ad accordare la fiducia al Governo De Gasperi, quindi voleva distinguere. Tommaso Leone Marchesano disse che con la votazione dell'ordine del giorno Bettiol, che sarebbe un ordine del giorno pure semplice e che dovrebbe avere, secondo l'interpretazione di alcuni, la precedenza assoluta sulla votazione degli arti ordini del giorno, si potrebbe privare la Camera del diritto di esprimere la sua opinione sugli altri ordini del giorno presentati, in particolare sull'ordine del giorno Covelli del Partito Monarchico, sul quale sembra debba votarsi per divisione, il che non può ammettersi, come dicevo, sia dal punto di vista sostanziale, cioè degli articoli 94 e 95 della Costituzione che stabiliscono la procedura con la quale la fiducia deve essere votata, sia dal punto di vista formale, cioè dell'articolo 131 del regolamento, il quale vuole che la fiducia al Governo si voti non su un ordine del giorno, ma su una mozione che sia stata appositamente presentata, la quale non può inoltre essere discussa e quindi votata prima di tre giorni dalla presentazione. Che cosa significa ciò se non una garanzia che si è voluta dare dalla Costituente al diritto di tutti, cioè al diritto di tutti i deputati, di tutti i rappresentanti del popolo, anche Renzo Laconi del Partito Comunista intervenne su questo discorso. È un fatto che la Camera non ha discusso le dichiarazioni cui l'ordine del giorno Bettiola si riferisce, di norma cioè la Camera approva dopo una discussione e questa non v'è stata, proprio perché vi è un ibrido, proprio perché è stato commisto ad un ordine del giorno di passaggio agli articoli, un ordine del giorno di approvazione delle dichiarazioni del Governo. E quindi nella sostanza il deputato comunista Laconi chiedeva che non si accettasse questo tipo di ordine del giorno o comunque si votasse prima sul merito e secondariamente si posponesse questa discussione. non è mozione di fiducia quella presentata dall'On. Covelli e non è mozione di fiducia quella presentata dall'On. Bettiola. Si tratta di due ordine del giorno che esprimono una maggiore o minore fiducia o sfiducia nel Governo e che sono al di fuori totalmente della procedura costituzionale fissata dall'articolo 94 della Costituzione. Sono dei puri e semplici pronunciamenti della Camera in occasione di un dibattito intorno ad un argomento attinente al dibattito stesso che toccano il momento esecutivo del provvedimento. Tanto l'ordine del giorno Bettiola quanto l'ordine del giorno Covelli non sono dunque mozioni di fiducia né di sfiducia. Votati non obbligherebbero il Governo ad andarsene, lo impegnano però moralmente a trarre le conseguenze derivanti da un voto della Camera. Sono quindi dei semplici pareri espressi dalla Camera nel corso della discussione di una legge sul Governo che questa legge dovrà o non dovrà eseguire e che comunque è attualmente responsabile. La mozione di fiducia è tutt'altro istituto. E veniamo all'intervento del democristiano resta in favore del Governo della maggioranza. Resta addirittura critica la Costituzione. Quando l'articolo 94 della Costituzione parla di mozione di fiducia, di mozione di sfiducia, nella prima parte la parola mozione è usata in senso improprio, perché mozione anche lessicalmente significa posizione di un tema da cui muove una discussione. Quindi quando si parla di mozione di fiducia come conclusione di un dibattito, la parola mozione è usata in senso improprio, giacché si tratta semplicemente di un ordine del giorno conclusivo di un dibattito. In realtà era già presente in questo senso, la parola mozione era già nell'uso. La seconda osservazione poi è che tanto nell'articolo 94 della Costituzione quanto nell'articolo 131 del regolamento, dove si parla di mozione di fiducia e di mozione di sfiducia, non si parla della posizione della questione di fiducia. La posizione della questione di fiducia da parte del Governo è perciò un terzium genus, quindi un terzo tipo. Questo è un punto essenzialissimo dal quale scaturiscono due considerazioni. In primo luogo noi possiamo dire che in sostanza la Costituzione nel codificare una vecchia prassi parlamentare non ha affatto escluso l'ipotesi per cui il Governo può sempre porre la questione di fiducia. In realtà la Costituzione non ne ha parlato, anzi ha inserito un comma che contrasta con la questione di fiducia. Costituzione e regolamento hanno costituito a favore del Governo il privilegio sulla sfiducia, privilegio che potrei chiamare un favor stabilitatis, cioè a favore della stabilità di Governo, per cui quando viene presentata la mozione di sfiducia occorre un quorum, una motivazione congrua e un termine determinato, cioè i tre giorni prima della discussione. La Coni intervenne successivamente per distinguere, dicendo che nulla vieta al Governo di porre la questione di fiducia, così come nulla vieta alla Camera di esprimere la propria disapprovazione. Ciò che invece è innovato nella prassi parlamentare dopo l'entrata in vigore della Costituzione è altro, è che mentre il Governo può porre la questione di fiducia e la Camera a disapprovare, essi si muovono l'una e l'altra in una sfera di discrezionalità, la quale né il Governo è obbligato ad andarsene, né la Camera è obbligata a determinate procedure o a determinate forme di voto. Il terreno sul quale si muove un ordine del giorno di sfiducia particolare ad un Ministro o ad un voto contrario della Camera, ad un provvedimento di Governo, è un terreno sul quale si hanno dei pronunciamenti, degli indirizzi, delle indicazioni, dei moneti se si vuole, ma niente altro che questo, perché nessuna conseguenza costituzionale e procedurale discende necessariamente da questo pronunciamento. Vi è una sola procedura che obbliga il Governo a dimettersi e la Camera a palesare nominativamente il proprio voto e questa procedura è quella fissata rigidamente dalla nostra rigida Costituzione. Questa procedura è quella appunto dell'articolo 94, mozione, dibattito generale, presa di posizione di ogni deputato che la voglia e di ogni parte della Camera e quindi voto a palese, il quale impegna il Governo, anche indipendentemente dal voto dell'altra Camera, ad andarsene. Quindi riassume proprio il testo dell'articolo 94. Del resto anche il fine giurista e costituzionalista Egidio Tosato, in sede di discussione dei lavori dell'Assemblea Costituente, disse che se le Camere respingono i progetti di legge presentati del Governo, il Governo potrà, ma non è obbligato a dimettersi e se le due Camere che hanno dato la loro fiducia al Governo ritengano modificata la situazione politica, presenteranno una mozione di sfiducia. Anche sia della seconda sottocommissione, sia in sede plenaria, Tosato ribadì questa posizione. Il quarto comma del testo proposto stabilisce che un voto contrario dell'una o dell'altra Camera su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni. Tra l'altro questo comma con lievi modifiche era già presente nel progetto di Costituzione. Su questo punto, giustificato da ragioni ben note che d'altronde si ricollega strettamente alla disciplina del Governo parlamentare che intendiamo istituire, non ci sono state osservazioni e non è quindi il caso che io mi soffermi. 24 ottobre 1947. Ma da dove discende la questione di fiducia? È una prassi parlamentare ottocentesca, ben nota. Nell'Ottocento si parlava di questione di gabinetto e questo che leggete appunto è il lemma del Dizionario politico popolare, un testo della metà dell'Ottocento, curato nel 1984 da Pietro Trefone. Avviene quando un Ministero propone la sua dimissione nel caso che un Parlamento non accetti una proposta fatta o appoggiata da lui. Anche questo è un sistema di prepotenza, di intimidazione, del quale usano ed abusano i Ministri ad ogni momento. Propongono un progetto di legge, una misura qualunque alle Camere, la loro proposta corre pericolo di essere respinta ed essi minacciano le Camere del loro ritiro. E le Camere, per evitare al Paese il pericolo di una crisi o l'eventualità di un Ministero peggiore, sono costretti ad accettare le proposte del Ministero vigente. E a ciò, se si aggiunge ancora la tema, il timore, nei deputati cosiddetti ministeriali della maggioranza di vedere deluse, causa di un cambiamento di Ministero, le speranze o le promesse fatte ad essi dal Ministero che è in vigore, si vedrà che ad ogni modo i Ministri riescono onnipossenti, anche in odio della libertà e con poca edificazione delle franchigie, delle garanzie costituzionali. Quindi la Costituzione repubblicana, con questo articolo che abbiamo citato all'inizio, l'articolo 94, in particolare con il quarto comma, voleva evitare il ricatto del governo a danno del Parlamento. Quindi voleva chiarire le sfere di competenza del potere esecutivo e del potere legislativo. Dunque si può parlare di questione di fiducia come una dichiarazione di fiducia programmatica, in cui il governo è sempre libero di fare le sue scelte e anche di dimettersi, ma non vi è un obbligo giuridico e quindi un messo causale tra la bocciatura di una proposta del governo da parte della Camera o del Senato e le dimissioni del governo stesso. Ma Alcide de Gasperi nel 1951 decise di fare questa forzatura con una dichiarazione del governo, proprio mentre la Camera doveva votare su questo impegno di spesa, maggiore impegno di spese militari, proprio per l'importanza politica dell'accordo Nato, dell'accordo militare che era stato accettato, firmato anche dall'Italia. Quindi da allora la questione di fiducia, in particolare con poi la riforma del regolamento della Camera nel 1971, divenne una prassi di cui si continua ancora oggi ad abusare. Ma in la prima vera discussione su questo aspetto importante nei rapporti tra governo e Parlamento e quindi nei delicatissimi equilibri costituzionali risale proprio al 1951 e quindi alla questione del riarmo dell'Italia. Bisogna anche dire che il partito della democrazia cristiana non era compatto su questa decisione e proprio per questo motivo De Gasperi scelse appunto questa strada, questa forzatura nel dibattito parlamentare. in questo modo il riarmo dell'Italia ebbe anche una conseguenza non irrilevante sul piano costituzionale. Grazie.